benvenuti da FTA online a questo nuovo appuntamento di analisi sui mercati finanziari io sono Alessandro Magagnoli responsabile dell'ufficio studio del sito ftaonline.com oggi andremo a guardare quelli che secondo FTA in questo momento sono i titoli migliori del Futsimib pubblichiamo infatti tutte le settimane una classifica di quelli che sono secondo noi i pesi da allocare ai singoli componenti del paniere Futsimib la versione integrale di questa tabella la trovate sulla newsletter giornaliera che viene messa a disposizione degli utenti Patreon quindi chi ci segue su patreon.com come FTA online dove c'è questa tabella appunto che riporta quella che secondo noi è l'allocazione corretta per il Futsimib e anche per l'Eurostox 50 quindi abbiamo una colonna dove diamo quella che secondo noi è appunto l'allocazione il peso da dare a ciascun titolo nell'ambito del paniere quindi questo grafico vi mostra quella che secondo noi è la situazione al momento vedete nella parte alta con i pesi maggiori sono Campari, Inuit, Amplifon, Stellantis, Telecom Italia, Pirelli e Ferrari che sono i titoli che andremo a guardare, in buona sostanza nelle prime posizioni abbiamo il comparto della pubblica utilità nelle posizioni medio basse abbiamo invece le banche e gli industriali sono nella parte finale della nostra classifica andiamo a guardare un po' di grafici iniziamo con Amplifon che ieri ha messo a segno una flessione, niente di grave c'è però da segnalare la presenza di questo pattern dal cloud cover disegnato in chiusura di settimana scorsa è normale che dopo una fase di crescita così evidente come c'è stata dal minimo del 13 di marzo se ci sia una fase di ripiegamento terrei come sempre la media mobile esponenziale a 20 giorni come riferimento da considerare per diciamo come spartiacque tra una semplice flessione correttiva e invece qualcosa di più consistente vedete proprio il minimo del 13 marzo ad esempio la contenuta dalla media così come anche durante le fasi di rimbalzo vedete in questa discesa il massimo del 13 di settembre era contenuto dalla media quindi fino a che i prezzi rimangono al di sopra della media che è a 31,55 circa si può considerare intatta la propensione al rialzo prossimo target per il titolo lo troviamo intorno all'area 35,50 a patto che le quotazioni riescono a ristabilizzarsi al di sopra dei 33 euro per quello che riguarda Campari invece siamo in una situazione positiva non c'è stata qui la comparsa di figure negative settimana scorsa qualche candela incerta però già nella stuta di ieri si era ristabilito il trend rialzista e in questo caso siamo in prossimità di una forte resistenza a 11,65 trovate infatti il 61,8% retracement di tutta la discesa dal massimo di novembre 2021 se dovesse realizzarsi il superamento di quei livelli potremmo considerare valido il doppio minimo che i prezzi hanno disegnato a partire da marzo dello scorso anno questa è la figura adesso ve la evidenzio nell'ambito di questa fascia se prendiamo l'ampiezza della figura e la proiettiamo dal punto di rottura il superamento c'è stato qui tra fine febbraio e inizio marzo otteniamo un target che si posiziona in prossimità dei precedenti record vedete l'obiettivo è a 13,10 prima resistenza intermedia sul 61,8% di proiezione a 12,15 pertanto sopra area 11,65 spazio inizialmente fino a 12,15 per quello che riguarda Ferrari abbiamo un trend decisamente positivo che recentemente ha anche comportato il superamento di questi massimi dopo il superamento dei massimi c'è stata un'accelerazione nelle ultime due sedute abbiamo visto un arretramento con questa figura a tweezertop potrebbe esserci a questo punto un nuovo retour move verso i massimi di fine 2021 quindi in area 2,47 e 2,48 l'impressione però è che questa fase rialzista ancora non sia terminata ritengo probabile che nel medio termine ci possa essere il proseguimento del rialzo almeno fino in area 2,72 circa quindi anche in caso di una fase di ripiegamento dovrebbe esserci poi un nuovo proseguimento del rialzo l'idea è che allo scorso giugno sia partita una situazione impulsiva diciamo una serie di onde impulsive che potrebbe appunto estendere l'importante è che i prezzi si mantengono di sopra di area 2,48 e riescano poi ovviamente a superare area 2,61-2,62 per quello che riguarda IMIT siamo anche qui in una situazione di forza c'è stato nelle ultime sedute un minimo di rallentamento vedete siamo su dei record assoluti possiamo calcolare quello che è il percorso che il titolo potrebbe andare a diciamo intraprendere con la presenza di questo canale il lato alto del canale ci fornisce attualmente un target intorno a 13,10 potrebbe anche in questo caso esserci un return move verso area 11,50 magari segnalato dalla violazione di area 12 l'intorazione di fondo mi sembra però decisamente positiva non mi aspetterei grosse flessioni mentre area 13,10 potrebbe essere un obiettivo solo temporaneo e con la possibilità poi di salire anche oltre quei livelli gli altri 4 titoli A2A, Pirelli, Stellantis e Telecom Italia li andremo a guardare nel video riservato proprio agli utenti Patreon quindi se siete interessati ci trovate su patreon.com.ftonline prima di salutarvi vi ricordo come sempre che se avete voglia di supportarci potete lasciare un like a questo video a noi è sicuramente utile per continuare a crescere continuare a fornirvi contenuti come quelli che abbiamo visto oggi a noi è sicuramente utile